Volevo sapere questo Vangelis, lunedì sera tornando da Udine vi abbiamo superato con la macchina e voi eravate in pullman. È stato proprio il momento in cui è arrivato il risultato dell'Inter. Allora mi sono chiesto chissà adesso che cosa stanno dicendo loro, come vive una squadra insomma come il Verona, un momento così quando avete saputo che eravate quindi in classifica. Se dico la verità non l'abbiamo pensato neanche, quel momento là stavamo tornando da una partita che eravamo tutti stanchi perché siamo sacrificati tantissimo. Questo vediamo alla fine, noi dobbiamo guardare la nostra squadra adesso, dobbiamo salvarsi, arrivare a 40, appena arriviamo a 40 proviamo di fare qualcosa in più. Se arriviamo fino all'anno siamo vicino a Inter, chi sarà il quinto posto e noi dobbiamo tenere quel posto lì, non lo so come sarà, dopo vediamo. Adesso non possiamo pensare cosa può succedere se possiamo arrivare in Europa o no. Io non lo penso neanche, non lo so se lo fa qualcuno lo può dire. Io l'ho detto sempre, la salvezza e basta, dopo vediamo cosa può succedere. Poi volevo sapere questo, dopo quel periodo di crisi che c'è stato, a me sembra che siate veramente maturati, cioè che vi abbia fatto molto bene e anche un po' più consapevoli di essere una squadra che non dico che sia forte ma che ci sta molto bene in Serie A. Sì però crisi per me è un'altra cosa, capisco quello che vuol dire. Crisi di risultati. Sì c'era un po' di risultati, però sono risultati che può succedere in Serie A, possono essere che arrivano anche sette partite che non riesci a vincere, dieci. Le altre squadre ce l'hanno crisi, non noi in questo momento. Noi non credo che siamo passati questo momento di crisi, abbiamo passato un momento normale che non arrivava il risultato, però sempre credo che anche le partite che abbiamo perso abbiamo dimostrato un carattere che potevamo recuperare la partita. Non mi ricordo una partita che abbiamo perso così male, sarà una? Allora crisi per me non c'era quest'anno. E credo che se continuiamo a fare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, non credo che poi arriverà un momento di crisi per questa squadra, per questo gruppo. Perché la psicologia, la mentalità, tutto quello è su e credo che siamo tutti intelligenti e capaci a tenerla così alta. Altra cosa, dove li collochi la coppia Moras-Maietta tra le coppie di difensori centrali in questa Serie A? Guarda, parliamo sempre, abbiamo discusso tante volte per il discorso della difesa, non è singolarmente, non è facile a gestire quello. Di sicuro io quello che so e posso dire è che sempre stiamo cercando di lavorare bene dal punto di vista difensivo, che non dipende solo da quattro dietro, da due, da me e Mimo, o chi sarà lì, dipende da tutta la squadra. A Udine, a Cattania abbiamo visto una squadra, un gruppo che lottava fino alla fine con Lazio lo stesso, quello che ho detto come esempio dopo la partita contro Lazio, che era 3-1 la partita e tornava Gomez dietro a recuperare la palla. E questi sono segnali positivi e quello lì si vede quando lavora bene la difesa. Io quando ce l'ho le coperture, ho il centro capitale e le coperture, tutto funziona meglio e arrivano anche i risultati. Arriva anche una cosa migliore, allora difesa singolarmente non lo so dove mi posso mettere come difensore. Io provo sempre a dare il massimo, Mimo prova sempre, chiunque giocatore credo che prova sempre a dare il massimo e dopo i risultati arrivano. Ultima cosa per me, ti aspetti il rinnovo del contratto, vuoi rinnovare con il Verona visto che sei a scadenza giugno? Se dico che non voglio sarà una bugia, voglio, però vediamo, parliamo, non so cosa vuole la società fare. Se dobbiamo parlarci, credo che è facile farlo perché abbiamo un rapporto buonissimo, allora speriamo, vediamo cosa succederà questo mese. Di sicuro non voglio pensare proprio il mio contratto così tantissimo, voglio pensare queste partite. Dopo quello che arriverà, arriverà, lo so, sono stato in questa posizione proprio di scadenza e voglio essere proprio concentrato perché so che se io faccio bene, quello che arriverà per me personalmente arriverà. Se sarà qua, ancora più facile per me, per mia famiglia, ancora meglio perché so la squadra, sto giocando bene, stiamo giocando bene, allora è ancora più facile di cambiare, non è una cosa facile sempre per un giocatore. Ecco, non è vero che vuoi tornare in Grecia? No, 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 perché dicono sempre, ho fatto anche interviste, non lo so perché dicono sempre per quello. Non ho problemi di tornare in Grecia perché parliamo di scadenza di contrato, se mi arriva un'offerta che a me mi fa piacere, può essere che torno in Grecia, può essere che vado, non lo so, parliamo di chiunque paese nel mondo, allora se mi arriverà un'offerta o del Verona o da un'altra squadra, devo pensare per forza, va così. Vangelis, a Udine eravate 8 undicesimi della squadra che è arrivata a seconda in Serie B e tutta la difesa era quella della Serie B. Tra di voi ci pensate, a questo ne parlate? Vabbè, la squadra di Serie B credo che è costruita l'anno scorso con giocatori di Serie A anche, allora non era una squadra di Serie B quella dell'anno scorso, di sicuro di vedere i stessi giocatori e tanti giocatori dell'anno scorso che possono fare bene in una categoria superiore, come sia il campionato di Serie A, questo ti fa sentire bene, è un piacere. Di sicuro è ancora più facile perché se abbiamo la qualità e possiamo dimostrarla, è più bello vedere che siamo anche noi qua, possiamo fare bene qua. È bello anche più facile perché abbiamo lavorato un anno tutti insieme con la difesa, allora sappiamo cosa devo fare io che gioco vicino al cacciatore o da Mimo, sappiamo ognuno le caratteristiche dell'altro, allora è ancora più facile per noi di fare meglio. Però è tutto un lavoro di gruppo, un lavoro che è quello che fa la differenza. Se il gruppo sta bene, stiamo tutti bene, cioè possono lavorare tutte le linee molto molto bene. Se iniziamo a fare i fenomeni, possiamo prendere anche 4-5 gol, perché non credo che siamo una squadra di fenomeni, siamo una squadra umile che lavora sempre bene, dà il massimo e sacrifica per il suo compagno, non deve cambiare quello mai. Dove lo metti tu, Igua, in una ipotetica scala di valori fra i grandi centravanti della Serie A? Non solo della Serie A, parliamo di un giocatore fortissimo che ha giocato una squadra migliore del mondo, il Real Madrid. Sappiamo la forza sua, cosa ha fatto fino adesso, io lo metto nei attaccanti più forti del mondo, cioè se possiamo scegliere 10 giocatori così, puoi mettere a questo momento di quelli 10 proprio più forti. Dopo quello che dico sempre, il gruppo che fa la differenza, allora se noi stiamo bene non abbiamo paura di nessuno proprio. Per la scala di valori, il Napoli è chiaro che in questo momento è particolarmente forte, è chiaro che c'è la Juve, la Roma che affronterete fra poco, però il Milan che avete affrontato poi non si è dimostrato così, insomma l'Inter va... È un ulteriore scalino, una dimostrazione che vorrete dare a voi stessi, magari giocarvela fino in fondo con una squadra così, un potenziale offensivo, tutte le caratteristiche che ha il Napoli. Oppure no? Sono favoriti loro, di sicuro è questo. Dopo, se noi vogliamo vincere, vogliamo vincere con chiunque perché dobbiamo prendere i punti che ci servono per la salvezza. Noi pensiamo così e te lo garantisco proprio che è così. Allora non cambia chi sarà domenica, sia Napoli, sia Napoli. In questo momento è Napoli, dopo tocco una partita ancora più difficile contro Milan. Però a casa abbiamo dimostrato che non abbiamo paura di nessuno e noi se facciamo la nostra partita con la nostra voglia, proprio la nostra carica che abbiamo dimostrato l'ultima anche a casa, possiamo fare il risultato, quello che dicono. Non abbiamo paura perché adesso stiamo bene, psicologicamente, mentalmente, fisicamente. Stiamo veramente bene e dobbiamo sfruttare tutta quella nostra forza e sfruttarla bene per prendere i risultati che ci servono. Tu parlavi giustamente di salvezza, pensate alla salvezza, ma questo tretico di partite, Napoli, Milano e Roma, vi possono dire dove potete davvero arrivare in classifica? A me no, a me no. Io devo vincere domenica perché devo arrivare 35. Dopo devo vincere, devo vincere. Devo prendere punti a Milano perché devo arrivare un punto in più. Io sto pensando sempre 40. Dopo 40, se arriviamo in tre settimane, saremo tutti felici e dopo vai a cercare di sicuro qualcosa in più. Speriamo di essere l'Europa, magari. Sarà un sogno per tutti e siamo tutti qua a godere per un successo. Però pensiamo a 40. Arriviamo a 40 e dopo siamo qua a fare conferenze stampe e parlare proprio di altri obiettivi. Allora me lo auguro proprio perché credo che fino adesso abbiamo fatto bene. Se merita questa squadra qualcosa in più, credo che merita. Però arriviamo a 40 e dopo vediamo. Ok, grazie. Tornando alla partita di domenica con Napoli, che partita dobbiamo aspettarsi? Visto che Verona è in casa, ha sempre fatto grandi partite. È una squadra che... Allora è meglio dare come esempio proprio quella della partita contro Lazio. Se vogliamo parlare che a casa veramente siamo un po' più diversi. Giochiamo un po' di più perché abbiamo anche il pubblico che sta con noi. Allora, niente. Noi dobbiamo avere la voglia di prendere punti, dare il massimo. Quello che arriverà, arriverà. Fino adesso, tutte le volte che abbiamo dato il massimo, abbiamo guadagnato qualcosa. Allora spero anche domenica, se facciamo tutto quello che abbiamo fatto, è quello che dobbiamo fare questa settimana. Lavorare bene per essere pronti per questa partita. Se riusciamo a sfruttarlo tutto bene, i punti arriveranno. Se saranno tre, sarebbe ancora meglio. Se sarà uno, siamo contenti. Però di sicuro non voglio nessuno perdere. Noi non siamo di loro che sono abituati a perdere. Perché siamo così. In questo momento stiamo bene e non vogliamo perdere. A proposito della bella vittoria di Udine, quanto può aiutare la squadra a fare una bella partita e trovare un risultato anche con il Napoli? Credo che il modo che parlo ti fa capire subito quanta voglia c'è di fare bene. è che crediamo, questa squadra crede. Può essere che arriverà uno sconfitto, non lo so, però il calcio è così. Noi di sicuro quello che non deve mancare è la voglia di cercare il risultato e dare il massimo. Quello che dico, dobbiamo sacrificarsi tutti insieme. È così, mancano otto punti. Otto punti può essere che lo facciamo dieci giornate. Io voglio farli subito, subito per essere più tranquillo, per essere più sereno e dopo cercare qualcosa in più. Va così.